Ciao a tutti da Mr.Gaucerumano e siamo arrivati come ogni fine settimana ai consigli della settimana il cosa cosa cosa, quindi una cosa da vedere, una cosa da leggere e una cosa da ascoltare non necessariamente in quest'ordine. Cominciamo con le cose da vedere al cinema avrei voluto tanto parlarvi di Monuments Man, di Econ George Clooney, la storia sembrava bella un caspazzesco, invece il film è una mezza delusione. E allora vi parlo di un altro film molto meno importante, molto meno pubblicizzato, però molto più bello. Tango Libre, eccolo qua ovviamente con i potentissimi mezzi della tecnologia di Mr.Gaucerumano. Tango Libre è un film di Frederic Fontaine, che è il regista che aveva fatto una decina di anni fa una relazione privata che era davvero davvero bello e andatevelo a vedere se non l'avete visto. E poi aveva fatto La Dona di Gilles, che era un po' meno interessante, comunque erano otto anni che non faceva film. Torna con questo film che in realtà è di un anno e mezzo fa, era a Venezia nel 2012, aveva vinto il premio della regia nella sezione Orizzonti, che è quella un po' più diciamo sperimentale, alternativa. E racconta, Tango Libre, la storia di un triangolo che diventa un quartetto tra una donna, il suo uomo e il suo migliore amico, che sono in carcere e di cui lei è innamorata più o meno di tutti e due, e il loro carceriere che conosce durante dei corsi di tango. Questo quartetto diventa una commedia, non degli equivoci, ma una commedia di carattere, un film molto bello sulla danza, sulla bellezza del tango, un gioco di attori fenomenali e quindi è una commedia più o meno folle, più o meno sui generis, sgancherata, che magari ha qualche pecca nel finale, però è una visione di quelle che diciamo fanno stare bene pur non avendo i canoni del cinema classico, della commedia classica. È un film che vi consiglio perché è uno sguardo su un modo un po' diverso di fare commedia. Scusate, anche ieri ho dormito e quindi non è un film completamente delirante e devastante, però ha, soprattutto per una commedia francese, ha dei modi di fare molto interessanti, soprattutto anche il modo in cui vengono ribaltati luoghi comuni di genere tra uomo e donna, carceriere e carcerato, davvero interessante, magari credo che saranno usciti in pochissime copie, però se riuscite non perdetelo, parliamoci poi chiaro, non è che c'è solo il cinema per vedere un film, se avete un cinema più o meno vicino a casa che lo fa, andateci, se no, no? Tra l'altro ho in mente di fare un video, un punto di vista su distribuzione, download, peer to peer, la pirateria rovina il cinema, ma siamo sicuri? Vabbè, quello poi ne parleremo. Tango libre, da vedere. Che vi ascoltate? Io non ho ascoltato molta musica in questa settimana perché ho visto le Olimpiadi, è la verità, c'è le Olimpiadi invernali, le Olimpiadi in generale, invernali e estivi sono una mia grande passione e quindi mi sono fissato, se non avete mai visto una partita di curling che è tipo gli scacchi applicato alle bocce, applicato al biliardo, un gioco straordinario, oppure se non avete mai visto lo snowboard crossing, cioè tipo sostanzialmente gente che corre velocissimo, una gara che arriva primo, roba di spettacolo, vedete però, però tra la musica che ho ascoltato mentre vedevo le Olimpiadi c'è questo disco molto bello, che è Get Up di Ben Harper e Charlie Masterwhite. Un altro disco di cui avrei voluto parlarvi era quello nuovo di Anna Calvi, One Breath, però è deludente anche questo rispetto al primo disco e quindi lo lascio perdere. Invece Get Up è bello, va detto anche che qui Ben gioca sul sicuro, lui è una delle più belle voci del rock e della musica mondiale ed è un talento in fase di composizione, un talento, un grande musicista. Si è affiancato, probabilmente quello che è il più grande armonicista al mondo, Charlie Masterwhite appunto, e ha fatto questo disco che è di blues classico, quindi chitarra, batteria, armonica, basso, suoni caldissimi che nascono dalle radici, però anche belle canzoni, bei momenti molto forti. Ovviamente come sempre vi metto qui il disco e sotto i link per sapere di più. Sotto poi vi metto anche tutti i link per avere una programma di film in uscita, recensioni e chi più ne ha più ne metto. Quindi se amate Ben Harper, ma soprattutto se amate questi suoni molto americani, molto caldi, se amate il blues e il soul, Get Up di Ben Harper e Charlie Masterwhite è il disco che fa per voi. Cosa leggere? Ve l'avevo promesso, la settimana scorsa ho finito di leggere un libro davvero davvero bello, è questo. A Chloe per le ragioni sbagliate di Claudia Durastanti. Io sono contento di parlarne poi perché come avevo detto Claudia è un'amica. Edito da Marsilio ed è il racconto di una coppia, una coppia molto particolare perché c'è lei che è una ragazza che ha avuto dei problemi psicologici e che ha vissuto un periodo di ricovero in una comune. Anzi non ho detto la particolarità che Claudia Durastanti è italiana, però siccome è nata in America e ha tutta una cultura americana non solo dovuta al fatto che vede, legge, sente prodotti dagli Stati Uniti, ma perché è americana in pratica e quindi tutto ambientato a New York e insomma dintorni di New York, così come il suo primo libro, che vi consiglio, che era un giorno vero a tirare sassi alla tua finestra. Anche quello molto bello, questo però è un upgrade, per usare un termine brutto. È un miglioramento. C'è questa storia tra questa ragazza che ha appunto dei problemi psicologici e invece questo ragazzo che è all'apparenza un ragazzo normale, però insomma anche lui si trova ad affrontare le difficoltà dell'essere se stessi. Questa storia d'amore non appunto love story, è una storia tra due persone normali e il mondo che li circonda, i loro amici, le persone che frequentano, le comunità, le società che frequentano. C'è una densità di scrittura pazzesca, tanto che le prime 40-50 pagine sono difficili da penetrare. È come se queste parole si addensassero davanti agli occhi e si facesse fatica a toglierle dall'avanti per entrare nei personaggi. Poi ci si riesce, anche perché Claudia è bravissima proprio nel raccontare i flussi di coscienza, i pensieri, quello che bolle dentro senza però usare i termini classici della psicologia, della psicoanalisi, soprattutto dello psicologismo che è un dramma grave di molta letteratura, di molta arte in generale. Ci riesce e arriva a dei momenti assolutamente laceranti, assolutamente strazianti. Il modo in cui questo libro racconta alcuni tipi di rapporti, non solo sentimentali, ma tra le persone e soprattutto i rapporti con genitori, fa veramente male. Ma allo stesso tempo non è un libro che fa del maledettismo, del dolore. Anzi è un libro che attraverso la comprensione di certi rapporti cerca di raccontare la felicità o per uno il tentativo di essere felici, il tentativo di uscire fuori dalle proprie secche. Ed è un libro che raggiunge dei picchi veramente molto forti all'interno di una maturità personale, di stile, ha una coscienza della normalità in cui viviamo che non è né più nobile ma né tantomeno qualcosa da cercare di allontanare, che ne fa davvero un libro molto bello e un'opera seconda che mi piace consigliarvi e ha maggior ragione perché conosco la sua autrice. Claudio Durastanti, edizione Marsilio, a Chloe per le ragioni sbagliate. Quindi ricapitolando, vi andate a vedere, questo fine settimana e nei prossimi giorni, vi andate a vedere Tango Libre di Frederic Fontaine, vi ascoltate Get Up di Ben Harper e Charlie Masterwhite e vi leggete A Chloe per le ragioni sbagliate di Claudia Durastanti. Un grande bacio a tutti, questi sono i consigli della settimana, se poi volete andare ad ascoltare gli altri consigli delle scorse settimane ovviamente ve li metto qui e poi un po' qui sparsi vi metto un altro po' di video che potrebbero interessarvi. Se vi è piaciuto questo video cliccate mi piace, commentatelo e condividetelo il più possibile, iscrivetemi, infiletemi perché io sono già iscritto, ma anche voi, iscrivetevi al mio canale e per avere tutti i consigli noi ci vediamo e ci sentiamo, per chi usa YouTube come una radio, fra un paio di giorni con il Chiedi Chi Era per raccontarvi un po' di storia del cinema e chiudere il critico dei grandi comici degli albori con i fratelli Marx, di cui insomma il mio nickname Im, insomma modestamente fa uso e poi a metà della settimana in diretta ad Amsterdam Live from Amsterdam per il punto di vista sul Festival di Sanremo. Vi saluto, vi bacio, vi abbraccio, statemi bene.